...d'opera di Fernandez che ha spedito un pallone oltre la traversa di Polpo per regalare il calcio d'angolo alla Nocerina, il calcio d'angolo battuto in questo istante Riva il gol, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo battuto da Giuliano, dopo il pallone, Michael Negro che è il numero a sfera